Produttrici, ristoratrici, sommelier, donne che vivono e lavorano nell'Italia del vino. Racconti di passione, storie femminili che con pragmatismo e sensibilità si sono imposte in un settore storicamente maschile, trasformando il modo di vivere il vino attraverso una comunicazione che coinvolge la musica, l'arte, la storia e la danza. Saranno questi i temi dominanti della convention nazionale annuale Le donne del vino, in programma a Bari il 3 e il 4 dicembre prossimi. Titolo scelto quest'anno, Figlie della Terra, il vino raccontato dalle donne. L'evento, a cura di eventi d'autore, è reso possibile grazie al sostegno dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia. Suggestiva la cornice scelta per gli incontri, ovvero il foyer del Teatro Petruzzelli, che per due giorni si trasformerà nel salotto delle donne del vino. Ospiti d'eccellenza del mondo enologico, provenienti da tutta Italia, giornalisti, opinion leader e amanti del vino si incontreranno in un vero e proprio viaggio alla scoperta sensoriale tra calici e profumi, storie tutte al femminile e racconti tra passione e sensibilità per la terra e la vigna. Ospiteremo tutte le nostre associate d'Italia che ci raggiungeranno qui in Puglia, avremo modo di comunicare la nostra Puglia anche a loro. E poi sarà in generale un racconto, un racconto di storie di produttrici, storie di vini. Il presupposto da cui parte questo evento è che dietro ogni bottiglia c'è una storia da raccontare. È la storia ovviamente dell'azienda, del produttore, ma principalmente la storia di un territorio. E noi proprio questo vogliamo fare, vogliamo raccontare la storia delle 19 delegazioni d'Italia.